è l'ata totale che parte appunto dalla distruzione sia della tradizione religiosa perché io non sono praticante, non sono per una cattolica praticante ma mi ritengo come Oriana dalle radici cristiane, le nostre radici affondano qui perché io quando esco di casa vedo le nostre chiese e le sento come mie esattamente come faceva Oriana Pallaci, vero o chiara? bene io direi che siete stati pazientissimi e bravissimi quindi ora Claudio è al telefono con la radio e sicuramente sta ammazzando qualche esponente del PD facciamo fare il suo lavoro che lo deve fare bene e noi possiamo fare un aperitivo direi grazie a tutti